Si è svolta nella giornata odierna una conferenza stampa per fare il punto sui lavori pubblici dell'area stazione Via dell'Acquedotto e Cavalca Ferrovia. Presente il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha illustrato tutte le operazioni di rinnovamento che riguarderanno la città. Vi invito tutti a visitare il sito pesarochecambia.it dove si vedono tutti i lavori e tutti i finanziamenti che abbiamo attratto. Oggi abbiamo presentato 20 milioni di lavori che partiranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Tutti concentrati intorno all'area tra la stazione e il Cavalca Ferrovia. In particolar modo la nuova stazione, la riqualificazione della stazione esistente, 8 milioni di euro. Il rifacimento del Cavalca Ferrovia, 3 milioni di euro. Il sottopasso dei cappuccini, altri 800 mila euro. E poi il ponte ciclopedonale che collegherà Tombaccia con la stazione Via dell'Acquedotto. Tanti lavori in quella zona, sia di parcheggi sia di strutture sociali. Quindi davvero un investimento molto importante. Ovviamente quando iniziano i lavori ci sono anche dei disagi. Chiediamo pazienza ai cittadini e comunicheremo gradualmente i cambiamenti di viabilità. Iniziare ovviamente dalle prime modifiche. Una trasformazione importante per la città che si appresta a vivere un evento importante come Pesaro Capitale della Cultura. 20-24. Sì, intanto abbiamo chiesto nella gestione dei cantieri qualità, nelle impalcature, nella cartellonistica. Abbiamo chiesto anche di apporre laddove è possibile il brand della Capitale della Cultura. Perché è anche un modo per dimostrare che la Capitale della Cultura sta dentro questa trasformazione che Pesaro sta avendo. E che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sarà sempre più evidente. Previsto per domani l'inizio delle operazioni sul Cavalca Ferrovia e ovviamente ci saranno alcuni cambiamenti che riguarderanno la viabilità. Già da domani il lavoro sul Cavalca Ferrovia. Il tratto interessato è quello che va tra Via Fratelli Bandiera e l'oratorio della Chiesa dei Cappuccini. È un lavoro che va a step e questo primo cantiere in qualche modo comporta un cambiamento sostanziale della viabilità. In primis Via Fratelli Bandiera subirà un'inversione di marcia. Quindi si andrà dal Via Montegrappa a scendere verso Via Rosolino Pilo, mentre prima era il contrario. Mentre su Via Cardinal Massaia, che è la via che ci permette di accedere alla Chiesa dei Cappuccini e a tutta l'area di sosta a disposizione della città, quindi Porta Capuccina e il parcheggio della stazione ferroviaria, subirà anche questo un'inversione di marcia. Quindi permetterà alla Chiesa di avere i fedeli che potranno accedere in maniera tranquilla all'attività della parrocchia e permetterà ai pesaresi che hanno bisogno di cercare un posto auto gratuito a ridosso del centro di arrivare ai due parcheggi scambiatori. Poi per uscire si andrà in direzione Via Solferino e poi per chi vuole tornare in centro farà la rotatoria di Via Solferino e tornerà sul cavalcaferrovia. Criticità l'avremo con i tanti ciclisti che arrivano dalla zona di Villa Fastici, di Villa San Martino, da Pantano, che scendendo verso il centro e verso il mare troveranno il sottopasso dei Cappuccini interdetto. Lì andremo a creare su Via Cardinale Massai una corsia a doppio senso di marcia per le biciclette.